Martedì 30 novembre 2021, è il 334esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Sagittario. Gli onomastici di oggi. Oggi è l'onomastico di Andrea. Accadde oggi. Il 30 novembre 1982, Michael Jackson pubblica Thriller, l'album più venduto di tutti i tempi. La saggezza del web, citazioni dalla rete. Io con i piedi per terra, inciampo. Lo diceva mio nonno. Chi fa da sé, fa per tre. Parla come mangi, gli inglesismi spiegati bene. I personaggi pubblici che presidiano spesso ad eventi o manifestazioni sono chiamati socialite. È un termine prevalentemente rivolto a personaggi femminili. Tra le traduzioni più divertenti c'è il termine prezzemolino, utilizzato spesso per rivolgersi ad una persona che è onnipresente.